In questa piena emergenza sanitaria i medici di famiglia sono sempre sulla barricata, i primi ad avere i contatti con i pazienti. Dottor Petrucci, partiamo però dal vaccino anti-influenzale. Si avvicina l'inverno, i vaccini continuano a mancare. Quali sono le prospettive? Purtroppo sì, noi siamo partiti quest'anno molto precocemente e per tempo perché il primo ottobre avevamo già le prime dotazioni di vaccino e siamo partiti con le prime vaccinazioni. Purtroppo a questo primo approvvigionamento c'è stata un'interruzione, non si capisce bene da che cosa è stata determinata, per cui ad oggi siamo fermi e siamo in attesa di avere questa nuova fornitura che ci dicono dovrebbe arrivare dopo il 16. Questione tamponi rapidi, si dice che dai medici di famiglia nei prossimi giorni, nelle prossime settimane potrebbero iniziare, i pazienti potrebbero iniziare a poter usufruire proprio del servizio dei tamponi rapidi. Voi siete pronti, siete preparati per poter rispondere a tutto questo? Noi siamo preparati nella misura in cui siamo messi in sicurezza perché è vero che noi dobbiamo fare tamponi ad asintomatici, però è anche vero che lo dobbiamo fare in sicurezza sia per il paziente che per noi. Tenete conto che per ogni medico che dovesse risultare positivo, non voglio augurarmi malato, ma semplicemente positivo e dovendosi mettere in quarantena e isolare significa che i suoi pazienti resterebbero senza assistenza, tenuto conto della carenza di colleghi a tutti i livelli e quindi anche di quelli che magari ci dovrebbero sostituire. I nostri ambulatori possono avere dei problemi perché sono ubicati spesso nei condomini, nei palazzi, in città, quindi sarebbe opportuno e noi è quello che stiamo cercando di ottenere che fossero individuate a livello degli ambiti distrettuali dei locali idonei dove noi possiamo in tutta sicurezza sia per i pazienti che per noi eseguire questi tamponi. Dottore, l'ultima cosa, un'accusa che viene mossa a voi medici di famiglia è quella di ospedalizzare troppo i pazienti andando ad incolfare poi i reparti. Voi cosa rispondete? Dati alla mano questa è una sensazione. Siccome noi non possiamo discutere con le sensazioni ma dobbiamo discutere con i dati, io mi sono appuntato qua alcuni numeri. Nell'ultimo mese nell'Als di Chiede abbiamo avuto 1.606 casi positivi, nell'ultima settimana altri 730, quindi in sei settimane abbiamo avuto 2.336 casi positivi. Ieri il numero dei ricoveri nella nostra Als erano solo 89, quindi a significare che la maggior parte sono a domicilio. I medici di medicina generale sono 328, questo significa che con questo indice di ospedalizzazione un paziente ogni 4 medici viene ospedalizzato. I ricoverati sono tutti da 60-65 anni in sopra, fascia di età che per definizione hanno tutti quanti almeno una patologia cronica oltre alla fase acuta del covid adesso. Quindi evidentemente sono dei pazienti che per le patologie di cui sono già portatori, cardiopatici, diabetici, broncopneumopatici, obesi, eccetera, evidentemente hanno dei fattori di rischio.